Alla fine è arrivata la prima vittoria del campionato in casa alla palestra Luzzo contro la Marmilanza di Zebio e quindi sono i tre punti fondamentali fondamentali per questo campionato. Siamo insieme alla capitana Elena Zanini. Speriamo che sia un punto di partenza come l'anno scorso per riuscire a tornare un po' in classifica. C'è un po' di emozione, c'è un po' di emozione anche perché avete visto c'è un bellissimo berrettino in testa per la festa di Natale e ci sono anche loro dietro. Fatele un applauso di incoraggiamento. Quanto contente siete? Abbastanza. È stata un po' difficile questa inizia di stagione? Secondo sé soprattutto, però gli altri due abbiamo dimostrato di saper giocare come sappiamo. E adesso si va a festeggiare? Ovviamente. C'è anche da allenarsi e pronti per ripartire a gennaio con questo spirito? Per prendere altri punti. Va bene, grazie di essere stati. Ah, ha vinto la bottiglia di vino del nostro sponsor Alessandro Bortolini per la migliore giocatrice della partita di questa sera. Quindi applausi. Auguri a tutti e buon Natale. Grazie Elina. Assieme al signor Cristiano e per il papà il mio guardia.